Pronto? Giuseppe, ma dove sei? Avrò chiamato almeno 200 volte la clinica, sa? Matti! Sì, la finanza ha scoperto tutto. Tuo suocero e senatore ha combinato uno di quei casini pazzeschi. Chi? Tua moglie? Buona quella. Ha fatto una conferenza stampa dicendotene di tutti i colori. E suo zio, il cardinale, ha già chiesto l'annullamento del vostro matrimonio. E il passaporto? Ah già, il passaporto. Beh, devi avere pazienza. Sai, Luciano, quel mio amico, in questo momento ha paura. E capirai, ti cercano in tutta Italia, c'è di mezzo anche l'Interpol. Comunque tu non muoverti da dove sei, perlomeno...